di dino buzzati una cosa che comincia per elle voce di lorenzo pieri arrivato al paese di sisto e sceso alla solita locanda dove soleva capitare due tre volte all'anno cristoforo schroder mercante in legnami andò subito a letto perché non si sentiva bene mandò poi a chiamare il medico dottor lugosi che gli conosceva da anni il medico venne e sembrò rimanere perplesso escluse che ci fossero cose gravi si fece dare una bottiglietta di orina per esaminarla e promise di tornare il giorno stesso il mattino dopo lo schroder si sentiva molto meglio tanto che volle alzarsi senza aspettare il dottore in maniche di camicia stava facendosi la barba quando fu bussato all'uscio era il medico lo schroder disse di entrare sto benone stamattina disse il mercante senza neppure voltarsi continuando a radersi dinnanzi allo specchio grazie di essere venuto ma adesso potete andare che furia che furia disse il medico e poi fece un colpettino di tosse a esprimere un certo imbarazzo sono qui come amico questa mattina lo schroder si voltò e vide sulla soglia di fianco al dottore un signore sulla quarantina solido rossiccio in volto e piuttosto volgare che sorrideva insinuante il mercante uomo sempre soddisfatto di sé e solito a far da padrone guardò seccato il medico con aria interrogativa un mio amico ripete il lugosi don valerio melito più tardi dobbiamo andare insieme da un malato e così gli ho detto di accompagnarmi servitor suo fece lo schroder freddamente sedete e sedete tanto proseguì il medico per giustificarsi maggiormente oggi a quanto pare non c'è più bisogno di visita tutto bene le orine solo vorrei fare un piccolo salasso un salasso e perché un salasso vi farà bene spiegò il medico vi sentirete un altro dopo fa sempre bene ai temperamenti sanguigni e poi è questione di due minuti così disse e trasse fuori dalla mantella un vasetto di vetro contenente tre sanguisughe l'appoggiò ad un tavolo e aggiunse mettetevene una per polso basta tenerle ferme un momento e si attaccano subito e vi prego di fare da voi cosa volete che vi dica da vent'anni che faccio il medico non sono mai stato capace di prendere in mano una sanguisuga date qua disse lo schroder con quella sua irritante aria di superiorità prese il vasetto si sedette sul letto e si applicò ai polsi le due sanguisughe come se non avesse fatto altro in vita sua intanto il visitatore estraneo senza togliersi l'ampio mantello aveva deposto sul tavolo il cappello e un pacchetto oblungo che mandò un rumore metallico lo schroder notò con un senso di vago malessere che l'uomo si era seduto quasi sulla soglia come se gli premesse di stare lontano da lui don valerio voi non lo immaginate ma vi conosce già disse allo schroder il medico sedendosi pure lui chissà perché vicino alla porta non mi ricordo di avere avuto l'onore rispose lo schroder che seduto sul letto teneva le braccia abbandonate sul materasso le palme rivolte in su mentre le sanguisughe gli succhiavano i polsi aggiunse ma dite lugosi piove stamattina non ho ancora guardato fuori una bella seccatura se piove dovrò andare in giro tutto il giorno no non piove disse il medico senza dare peso alla cosa ma don valerio vi conosce davvero era ansioso di rivedervi vi dirò fece il melito con voce spiacevolmente cavernosa vi dirò non ho mai avuto l'onore di incontrarvi personalmente ma so qualche cosa di voi che certo non immaginate non saprei proprio rispose il mercante con assoluta indifferenza tre mesi fa chiese il melito cercate di ricordare tre mesi fa non siete passato con la vostra carrozzella per la strada del confine vecchio ma può darsi fece lo schroder può darsi benissimo ma esattamente non ricordo bene e non vi ricordate allora di essere slittato a una curva di essere andato fuori strada già è vero ammise il mercante fissando gelidamente la nuova e non desiderata conoscenza e una ruota è andata fuori strada e il cavallo non riusciva a rimetterla in carreggiata proprio così ma voi dove eravate ah ve lo dirò dopo rispose il melito scoppiando in una risata e ammiccando al dottore e allora siete sceso ma neanche voi riuscivate a tirare sulla carrozzella non è stato così dite un po proprio così e pioveva che dio la mandava caspita se pioveva continuò don valerio soddisfattissimo e mentre stavate a faticare non è venuto avanti un curioso tipo un uomo lungo tutto nero in faccia ma adesso non ricordo bene interruppe lo schroder scusate dottore ma ce ne vuole ancora molto di queste sanguisughe sono già gonfie come rospi ne ho abbastanza io e poi vi ho detto che ho molte cose da fare ancora qualche minuto esortò il medico un po di pazienza caro schroder dopo vi sentirete un altro vedrete non sono neanche le dieci diamine c'è tutto il tempo che volete non era un uomo alto tutto nero in faccia con uno strano cappello a cilindro insisteva don valerio e non aveva una specie di campanella non vi ricordate che continuava a suonare bene sì mi ricordo rispose scortesemente lo schroder e scusate dove volete andare a finire ma niente fece il melito solo per dirvi che vi conoscevo già e che ho buona memoria purtroppo quel giorno ero lontano al di là di un fosso ero almeno 500 metri distante ero sotto un albero a ripararmi dalla pioggia e ho potuto vedere e chi era quell'uomo allora chiese lo schroder con asprezza come per far capire che se il melito aveva qualche cosa da dire era meglio che lo dicesse subito ah non lo so chi fosse esattamente l'ho visto da lontano voi piuttosto chi credete che fosse un povero disgraziato doveva essere disse il mercante un sordo muto pareva quando l'ho pregato di venire ad aiutarmi si è messo come a mugolare non ho capito una parola e allora voi gli siete andato incontro e lui si è tirato indietro e allora voi lo avete preso per un braccio l'avete costretto a spingere alla carrozza insieme a voi non è così dite la verità che cosa c'entra questo ribatte lo schroder insospettito non gli ho fatto niente di male anzi dopo gli ho dato due lire avete sentito sussurrò a bassa voce il melito al medico poi più forte rivolto al mercante niente di male chi lo nega però ammetterete che ho visto tutto non c'è niente da agitarsi caro schroder fece il medico a questo punto vedendo che il mercante faceva una faccia cattiva l'ottimo don valerio qui presente è un tipo scherzoso voleva semplicemente sbalordirvi il melito si rivolse al dottore assentendo col capo nel movimento i lembi del mantello si dischiusero un poco e lo schroder che lo fissava divenne pallido in volto scusate don valerio disse con una voce ben meno disinvolta del solito voi portate una pistola potevate lasciarla da basso mi pare anche in questi paesi c'è l'usanza se non mi inganno per dio scusatemi proprio esclamò il melito battendosi una mano sulla fronte a esprimere rincrescimento non so proprio come scusarmi me ne ero proprio dimenticato non la porto mai di solito è per questo che mi sono dimenticato è che oggi devo andare fuori in campagna a cavallo pareva sincero ma in realtà si venne la pistola alla cintola continuando a scuotere il capo e dite aggiunse sempre rivolto allo schroder che impressione vi ha fatto quel povero diavolo che impressione mi doveva fare un povero diavolo un disgraziato e quella campanella quell'affare che continuava a suonare non vi siete chiesto che cosa fosse ma rispose lo schroder controllando le parole per il presentimento di una qualche insidia uno zingaro poteva essere per far venire gente li ho visti tante volte suonare una campana uno zingaro gridò il medico mettendosi a ridere come se l'idea lo divertisse un mondo ah l'avete creduto uno zingaro lo schroder si voltò verso il medico con irritazione che cosa c'è chiese duramente che cosa vuol dire questo interrogatorio caro il mio lugosi questa storia non mi piace un bel niente spiegatevi se volete qualcosa da me non agitatevi vi prego rispose il medico interdetto se volete dire che a questo vagabondo è capitato un accidente e la colpa è mia parlate chiaro proseguì il mercante alzando sempre più la voce parlate chiaro cari miei signori vorreste dire che l'hanno ammazzato ma che ammazzato disse il melito sorridendo completamente padrone della situazione ma che cosa vi siete messo in mente se vi ho disturbato mi spiace proprio il dottore mi ha detto don valerio venite su anche voi c'è il cavaliere schroder a lo conosco gli ho detto io bene mi ha detto lui venite su anche voi sarà lieto di vedervi mi dispiace proprio se sono riuscito importuno il mercante si accorse di essersi lasciato portare scusate me piuttosto se ho perso la pazienza mi pareva quasi un interrogatorio in piena regola se c'è qualche cosa ditela senza tanti riguardi ebbene intervenne il medico con molta cautela ebbene c'è effettivamente qualche cosa una denuncia chiese lo schroder sempre più sicuro di sé mentre cercava di riattaccarsi ai polsi le sanguisughe staccatesi durante la sfuriata di prima c'è qualche sospetto contro di me don valerio disse il medico forse è meglio che parliate voi bene cominciò il melito sapete chi era quell'individuo che vi ha aiutato a tirare sulla carrozza ma no vi giuro quante volte ve lo devo ripetere vi credo disse il melito vi domando solo se immaginate chi fosse non so uno zingaro ho pensato un vagabondo no non era uno zingaro o se lo era stato una volta non lo era più quell'uomo per dirvelo chiaro è una cosa che comincia per elle una cosa che comincia per elle ripete meccanicamente lo schroder cercando nella memoria e un'ombra di apprensione gli si era distesa sul volto già comincia per elle confermò il melito con un malizioso sorriso un ladro volete dire fece il mercante illuminandosi in volto per la sicurezza di avere indovinato don valerio scoppiò in una risata a un ladro buona davvero questa avevate ragione dottore una persona piena di spirito il cavaliere schroder in quel momento si sentì fuori della finestra il rumore della pioggia vi saluto disse il mercante recisamente togliendosi le due sanguisughe e rimettendole nel vasetto adesso piove io me ne devo andare se no faccio tardi una cosa che comincia per elle insistette il melito alzandosi anche lui in piedi e manovrando qualcosa sotto l'ampia mantella non so vi dico gli indovinelli non sono per me decidetevi se avete qualcosa da dirmi una cosa che comincia per elle un lanzichenecco forse aggiunse in tono di beffa il melito e il dottore in piedi si erano accostati l'un l'altro appoggiando le schiene all'uscio nessuno dei due ora sorrideva più né un ladro né un lanzichenecco disse lentamente il melito un lebroso era il mercante guardò i due uomini pallido come un morto ebbene e se anche fosse stato un lebroso lo era purtroppo di certo disse il medico cercando pavidamente di ripararsi dietro alle spalle di don valerio e adesso lo siete anche voi basta urlò il mercante tremando per l'ira fuori di qua questi scherzi non mi vanno fuori di qua tutti e due allora il melito insinuò fuori del mantello una canna della pistola sono l'alcade caro signore calmatevi vi torna conto vi farò vedere io chi sono urlava lo schroder che cosa vorreste farmi adesso il melito scrutava lo schroder pronto a prevenire un eventuale attacco in quel pacchetto c'è la vostra campanella rispose uscirete immediatamente di qui e continuerete a suonarla fino a che sarete uscito fuori dal paese poi ancora fino a che non sarete uscito dal regno ve la farò vedere io la campanella ribatte lo schroder e tentava ancora di gridare ma la voce gli si era spenta in gola l'orrore della rivelazione gli aveva agghiacciato il cuore finalmente capiva il dottore visitandolo il giorno prima aveva avuto un sospetto ed era andato ad avvertire l'alcade l'alcade per caso lo aveva visto afferrare per un braccio tre mesi prima un lebroso di passaggio ed ora lui schroder era condannato la storia delle sanguisughe era servita per guadagnare tempo disse ancora me ne vado senza bisogno dei vostri ordini canaglie vi farò vedere vi farò vedere mettetevi la giacca ordinò il melito il suo volto essendosi illuminato di una diabolica compiacenza la giacca e poi fuori immediatamente aspetterete che prenda le mie robe appena ho impacchettato le mie robe me ne vado statene pur sicuri le vostre robe devono essere bruciate avvertì sogginando l'alcade la campanella prenderete e basta le mie robe almeno esclamò lo schroder fino allora così soddisfatto e intrepido e supplicava il magistrato come un bambino i miei vestiti i miei soldi me li lascerete almeno la giacca la mantella e basta l'altro deve essere bruciato per la carrozza e il cavallo si è già provveduto come che cosa volete dire balbettò il mercante carrozza e cavallo sono stati bruciati come ordina la legge rispose l'alcade godendo della sua disperazione non vi immaginerete che un lebroso se ne vada in giro in carrozzella no e diede in una triviale risata poi brutalmente fuori fuori di qua urlava allo schroder non immaginerai che stia qui delle ore a discutere fuori immediatamente cane lo schroder tremava tutto grande e grosso com'era quando uscì dalla camera sotto la canna puntata della pistola la mascella cadente lo sguardo inebetito la campana gli gridò ancora il melito facendolo sobbalzare e gli sbatté d'innanzi per terra il pacchetto misterioso che diede una risonanza metallica tirala fuori e legatela al collo si chinò lo schroder con la fatica di un vecchio cadente raccolse il pacchetto spiegò lentamente gli spaghi trasse fuori dell'involto una campanella di rame col manico di legno tornito nuova fiammante al collo gli urlò il melito se non ti sbrighi per dio ti sparo le mani dello schroder erano scosse da un tremito e non era facile eseguire l'ordine dell'alcade pure il mercante riuscì a passarsi attorno al collo la cinghia attaccata alla campanella che gli pendette così sul ventre risuonando ad ogni movimento prendila in mano scuotila per dio sarai buono no un marcantonio come te va che bel lebroso infierì don valerio mentre il medico si tirava in un angolo sbalordito dalla scena ripugnante lo schroder con passi da infermo cominciò a scendere le scale dondolava la testa da una parte e dall'altra come certi cretini che si incontrano lungo le grandi strade dopo due gradini si voltò cercando il medico e lo fissò lungamente negli occhi la colpa non è mia balbettò il dottor lugosi è stata una disgrazia una grande disgrazia avanti avanti incitava intanto l'alcade come a una bestia scuoti la campanella ti dico la gente deve sapere che arrivi lo schroder riprese a scendere le scale poco dopo egli comparve sulla porta della locanda e si avviò lentamente attraverso la piazza decine e decine di persone facevano ala al suo passaggio ritraendosi indietro man mano che lui si avvicinava la piazza era grande lunga da attraversare con gesto rigido egli ora scuoteva la campanella che dava un suono limpido e festoso den den faceva